Lei? Avevo mica dei 50 euro? Eh, cioè... Lei mi sono mancati mica dei soldi, lei in casa? Allora... Io sono un parabiniere. Parabinieri? Sono entrati in casa sua. In realtà non capire se è per caso o ne ha portati... E allora i soldi sono miei? Ti prendo in banca? Sono qua! Ma sono questi in casa? Si! Si! I prendo! Ma!